Sì, Dante. Oggi possono crocifiggere i nostri corpi e lo fanno. La natura offre i suoi doni liberamente alle sue creature, ma non possono distruggere le nostre idee. Anche in intelligenza gli uomini si equivalgono, che rimarranno per le giovani generazioni future. Ma gli umili sono tenuti nell'ignoranza delle virtù degli altri popoli. Sempre, Dante, e sono avvelenati da assurdo orgoglio da coloro che speculano sul patriottismo. Nel gioco della felicità non prendere tutto per te. Noi, figli del cuore, ma scendi d'un passo e aiuta i deboli che chiamano al soccorso. Aiuta i perseguitati e le vittime, cittadini e membri di tutte le nazioni e della razza umana, perché sono i tuoi migliori amici. Dovremmo lavorare duramente per illuminare gli umili sull'unità della razza umana. In questa lotta della vita i confini dovrebbero cessare di esistere. Troverai molto amore. I fratelli non si batteranno con i loro fratelli. E sarai amato. I bimbi non saranno più privati del sole e allontanati dai campi verdeggianti. Non più lontano il giorno nel quale vi sarà un pane per ogni bocca, un letto per ogni testa, della felicità per ogni cuore. Grazie a tutti.